Ecco, Soviero non lo controlla, l'arbitro guarda i guardalini che ha ragione e dà calciavangolo e lui... E qui non si capirà mai che cosa ha detto perché è una cosa terribile, questa la censuriamo E non ho capito più E vabbè va avanti così Ma guardate la faccia del povero guardalini che aveva ragione, aveva ragione il povero guardalini E' stato insultato per 30 secondi